Ben trovati l'edicola di Schietti G24 per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani. Vediamo anche il mattino di Puglia e Basilicata Conte, re del sud, esiliato al nord. La legge gli impone di andare in Lombardia dove ha preso meno voti, cede l'amatissimo collegio di Foggia ad un degno sostituto dove ha preso il 33,98%, ma anche la campagna nella Sicilia dove era capolista. In Alta Italia prende solo il 9,37%, così rappresento tutti, dice e lancia la sfida a Meloni, il paese tuo, e al PD dialoghiamo dopo l'ETA. Giorgia non più di lotta ma di governo l'ha svolta con la testa già a Chigi per cambiare pure la Costituzione, corteggiata da Biden e Putin, Salvini ferito, ma non ha reso.